non arriveremo mai benvenuti in squadra emergenza vedete il nostro mastro Steven F. Olda oltre ad essere bassista, stage manager, guitar tester e anche cambio gomme mezza hai bruciato la luna ho bruciato la luna, ma è esplosata ma tu hai preso qualcosa per terra? un riccio di mare ragazzi la situazione è stata ripristinata abbiamo tutto in controluce ma chi se ne frega cambiato la ruota si riparte per colmar heavy metal ciao Sì, vincione! Ti deve sparare in faccia! No, ma non mangio tanto io. Una situazione così... Wow, poi funghi! Sono gli Audioslave. Ragazzi, è una pompa di benzina questa. Ma non puoi metterci con il cinese degli Audioslave anche qua. No, 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 no.